Buonasera a tutti, eccoci al nostro consueto aggiornamento settimanale. Per quanto riguarda l'emergenza dettata dal coronavirus all'interno della nostra comunità, quest'oggi sono veramente felice di poter dire che la situazione risulta essere invariata rispetto a ieri. Quindi nessun nostro concittadino risulta essere positivo, così come nessun nostro concittadino si trova in uno stato di quarantena. Con quest'oggi sono trascorsi quattro mesi dalla prima notizia di un nostro concittadino risultato essere positivo al covid-19. Dall'ora ad oggi 73 sono stati i casi di positività registrati, 13 i nostri concittadini deceduti ufficialmente a causa del virus, 232 le persone che sono state sottoposte a quarantena obbligatoria, 173 le persone che sono state sottoposte a quarantena preventiva. Se abbiamo raggiunto questo importantissimo risultato di non avere più casi di positività all'interno della nostra comunità, è grazie a voi, è grazie all'impegno, alla serietà e al senso di responsabilità che avete posto nella gestire la vostra quotidianità e nell'osservare le regole che sono state indicate. Possiamo naturalmente rallegrarci di questa situazione che da ieri stiamo vivendo e possiamo tirare un respiro di sollievo. Quello che però non possiamo permetterci di fare è di abbassare la guardia, perché comunque permaniamo in una situazione di emergenza e quindi dobbiamo continuare a dimostrare quella serietà e quel senso di responsabilità nell'osservare le regole comportamentali oggi vigenti e le indicazioni che ci verranno date nelle prossime settimane. Il nostro futuro dipende anche dai nostri comportamenti quotidiani. Con il 14 di luglio scadrà l'efficacia del DPCM e dell'ordinanza regionale che oggi stanno regolando la nostra quotidianità. Nel momento in cui avremo conoscenza dei nuovi provvedimenti che a livello nazionale così come a livello regionale verranno adottati, ne daremo naturalmente pronta comunicazione. Per quanto riguarda i servizi estivi che sono stati attivati nel nostro territorio, nella settimana appena trascorsa è ricominciata l'attività del nostro asilo nido che prosegue positivamente, così come positivamente stanno proseguendo il campus presso la scuola dell'infanzia di Fugato e il campus presso le strutture scolastiche di Inveruno e di Fugato. Mantenendo l'attenzione sul tema della scuola, mi rivolgo alle famiglie. Dal 14 di luglio fino al 28 di agosto si apre la possibilità di procedere all'iscrizione del servizio di rifezione scolastica. Sul sito del Comune di Inveruno trovate tutte le informazioni che vi saranno necessarie. Per quanto riguarda gli altri servizi che sono extrascolastici, vi daremo comunicazione rispetto alla loro eventuale attivazione e alla modalità con cui verranno attivati nel momento in cui avremo conoscenza dell'organizzazione del nuovo anno scolastico 2020-2021. Come sapete stiamo concertando con la dirigenza scolastica le modalità con cui dare avvio al nuovo anno scolastico e l'impegno è costante e quotidiano. Io vi auguro una buona serata, vi auguro una buona domenica e vi auguro una buona settimana.